Allora, buonasera a tutti, buonasera a tutti e benvenuti come ogni martedì alle dirette di Galatea, questa ora che noi dedichiamo oramai da anni all'approfondimento storico e ad un tema in particolare. Come avete visto questa sera il tema sarà Carlo Magno e la nascita della cultura europea, quindi ci spostiamo su un tema medievale. Vi ricordo che se volete seguire le dirette potete seguirle su Facebook, sulla mia pagina Facebook, su Instagram, sul mio account e adesso anche in diretta su YouTube. Allora, questa sera, ah e dimenticavo, trovate poi anche il podcast, le dirette di Galatea, su Spotify e su altre piattaforme che sono curate da Alice che ringrazio sempre tantissimo. Allora, il tema di questa sera è Carlo Magno e la nascita della cultura europea. È un tema intrigante perché, diciamo così, questa sera cercheremo di sfatare alcuni miti, alcuni stereotipi soprattutto, su Carlo Magno e sulla sua età, il Medioevo, che come sappiamo è un periodo amatissimo ma che purtroppo ancora adesso è spesso conosciuto attraverso una serie di idee precostituite che in realtà potevano essere vere magari o considerate vere qualche decennio fa, ma che oramai la critica ha ampiamente smontato. E quindi molto spesso il Medioevo che noi abbiamo in testa, scusate sposto un attimo l'inquadratura perché sennò non vi vedo bene, il Medioevo che noi abbiamo in testa rischia di essere qualcosa di completamente diverso di quello che invece era nella realtà. Ora, diciamocelo francamente, Carlo Magno è una di quelle figure che suscitano una grandissima simpatia e un grandissimo interesse perché è un po' una di quelle figure mitiche che si conoscono fino a quando siamo bambini alle elementari e quindi molto spesso noi abbiamo di quest'uomo un'immagine nella nostra testa che è un po', come dire, datata. Perché magari ricordiamo quello che ci ha raccontato la nostra maestra alle elementari oppure quello che ci hanno detto a scuola e siamo convinti che quella fosse l'immagine esatta di Carlo Magno. E Carlo Magno e la cultura, beh, è un bel tema. Perché quello che noi sicuramente sappiamo di Carlo Magno è che era un re dei Franchi e, diciamocelo francamente, nell'immaginario di Franchi, soprattutto nel Medioevo, non è che si pensi che fossero questi grandi intellettuali. Una delle cose che si racconta sempre a scuola di Carlo Magno, perché poi lo fa anche diventare molto simpatico agli studenti, è per esempio il fatto che Carlo Magno era completamente analfabeta, cioè non sapeva leggere e scrivere. O meglio, il suo biografo, Ginardo, ha raccontato che ci ha provato ad imparare a scrivere, tant'è vero che lui con grandissima buona volontà si teneva sotto al cuscino le tavolette per imparare a scrivere, ma gli stessi biografi che pur erano i suoi più cari amici e quindi insomma erano abbastanza favorevoli nei suoi confronti, ammettevano che i risultati erano molto scarsi. Quindi Carlo Magno non riuscì a imparare in pratica a scrivere neanche in tarda età. Da questo ne viene fuori un po' l'immagine che abbiamo tutti di un re bravissimo a combattere, di un re anche compagnone simpatico, perché poi nelle fonti lo dicono tutti molto alla mano, molto ciacione diremmo, anche se poi in realtà da alcuni atti politici ciacione lo doveva essere molto poco, ma insomma un re appunto che faceva le cose come si dice alla Carlona, cioè con una sorta di entusiasmo ma un po' guascone, anche non troppo attento ai particolari, ma insomma tutto tranne che certamente un intellettuale. Ma è vera questa immagine e soprattutto è vera l'immagine di un medioevo in cui i franchi erano ignorantissimi, quasi tutti analfabeti, incapaci di avere una grande visione politica e più che altro diciamo così che pare qualche volta che Carlo Magno abbia veramente fondato l'impero un po' per caso. Questa è un'immagine che probabilmente dobbiamo un po' scalpellare via e per parlarne bisognerà capire, per riuscire a capire in realtà cosa corrisponde alla realtà e cosa invece è leggenda in questa immagine che appunto noi tutti abbiamo in testa, dovremmo analizzare sia gli anni in cui Carlo Magno sale al trono, sia le decisioni che lui prese per fondare quella che poi diventerà la cultura europea e quindi in sostanza la cultura occidentale. Allora era vero che Carlo Magno era un alfabeta tanto per cominciare? Sì e no. Allora è vero che probabilmente non riuscì mai nemmeno in tarda età a scrivere in maniera scorrevole e corrente, ma va detto che scrivere era una cosa un po' diversa da quella che noi oggi facciamo. Allora è vero che in età romana anche nel periodo tardo antico la istruzione era molto più diffusa che non nei primi secoli del medioevo. Da quello che riusciamo a capire nell'impero romano fino almeno al quinto secolo la capacità di leggere e scrivere era abbastanza diffusa. Esistevano delle scuole abbastanza a poco prezzo e quasi tutti, persino gli schiavi, imparavano a scrivere. Però bisogna capire cosa voleva dire imparare a scrivere, perché in realtà c'era anche una cosa molto di base che bisogna imparare. Noi oggi siamo abituati ad avere un alfabeto standard e un'ortografia fissata. Anche i romani al tempo dell'impero ce l'avevano, nel senso che esistevano dei caratteri sia capitali sia minuscoli che venivano usati e che erano ovviamente diffusi per tutto l'impero perché erano appunto usati in tutto il territorio dell'impero. E quindi in sostanza i ragazzini dell'impero romano quando andavano a scuola tendenzialmente imparavano un solo tipo di alfabeto, un solo tipo di carattere, probabilmente imparavano tra l'altro il carattere che oggi chiameremo uno stampatello maiuscolo. Perché poi lo stampatello minuscolo e leggere invece i rotoli di papiro che erano spesso scritti con una scrittura molto minuta e assai spesso per risparmiare materiale scrittorio, quindi per risparmiare la pergamena o il papiro, le parole venivano anche brutalmente, come dire, abbreviate con un gergo che era proprio comprensibile spesso solo a chi scriveva il manoscritto. Ecco, leggere quel tipo di materiale era difficile per tutti se non si aveva avuto una istruzione superiore. Quindi diciamo così che anche nell'impero romano leggere e scrivere era una capacità che probabilmente avevano soltanto i membri delle classi più alte. Gli altri, il popolo, anche se non era ignorante e neanche del tutto analfabeta, probabilmente riusciva a leggere più o meno le epigrafi che leggeva nelle strade, riusciva a leggere qualcosa, ma era molto raro che leggessero da un manoscritto perché c'era anche poca possibilità per loro di consultarli e soprattutto appunto leggevano la capitale, cioè lo stampatello maiuscolo, diciamo così. Il resto era probabilmente incomprensibile ed eravamo appunto in un momento in cui l'impero era ancora in piedi per cui c'era una scrittura standard. Immaginate cosa era successo quando l'impero era caduto. Non soltanto la capacità di leggere e di scrivere era caduta tragicamente, anche perché quando si è impegnato a cercare di sopravvivere da invasioni barbare, pestilenze, assalti, guerre come quella gotica bizantina, diciamo così che andare a mandare anche i figli a scuola era uno sport estremo. Quindi cosa succedeva? Che i ricchi magari che avevano nelle loro ville le biblioteche potevano ancora coltivare gli studi e insegnare ai loro rampolli a leggere e scrivere. I poveri decisamente no, non era più una delle loro priorità. Peraltro il problema era che appunto non esisteva più una lingua comune perché il latino si era parlato in tutta Europa ma oramai si era imbastardato. Era diventato il cosiddetto sermo rusticus, che era un latino estremamente semplificato, pieno di influssi delle lingue barbariche e delle parlate preromane, che era però una lingua essenzialmente parlata. Quindi anche se avessero voluto scrivere, oramai neanche si sapevano bene quali fossero le regole della ortografia latina. Di conseguenza all'epoca di Carlo Magno, quindi stiamo parlando del 700-800 d.C., la capacità di leggere e scrivere era oramai davvero proprietà soltanto in sostanza degli uomini di chiesa, perché erano quelli che per motivi di lavoro dovevano continuare a saper leggere e neanche tutti, perché probabilmente soltanto i monaci più colti e quelli che vivevano in monasteri attrezzati erano in grado di imparare davvero a leggere e scrivere. Tutti gli altri si limitavano ad andare a sentire le funzioni e a sapere proprio quel minimo che gli poteva servire nella vita normale e per il resto erano assolutamente ignoranti. Anche la nobiltà franca di sicuro non brillava da questo punto di vista. Anche perché, ripeto, primo perché nella educazione dei barbari lo studio della letteratura non era proprio una delle priorità. L'importante era che i re sapessero combattere e menare le mani, non certamente leggere e scrivere. Ma molto probabilmente appunto c'era anche un problema, che non c'era più una scrittura standardizzata e non c'era più una lingua comune. Il franco, gli altri dialetti barbarici, in realtà tranne il gotico che aveva una tradizione, ma i goti a questo punto erano ampiamente scomparsi anche la loro lingua, non avevano una vera tradizione di scrittura. Quindi anche lì scrivevi delle parole a orecchio con un alfabeto, una grafia che potevano variare tantissimo da regione a regione e quindi in pratica anche se tu avessi imparato l'alfabeto della tua regione e avessi saputo scrivere in franco o avessi saputo trascrivere le parole franche, non è detto che queste sarebbero state comunque comprensibili o sarebbe stato possibile leggerle ad altre persone, anche abitanti pochi chilometri distanti da te. Quindi che cosa sapeva fare Carlo Magno? Non è escluso che magari sapesse tracciare qualche lettera e che fosse in grado sicuramente magari di leggere, perché teniamo presente anche questo, l'abilità di lettura e l'abilità di scrittura sono due cose completamente diverse. Nel Medioevo era abbastanza diffuso il fatto di saper leggere nelle classi elevate, ma non tutti, proprio perché i menoscritti venivano scritti da scrivi professionisti con abbreviazioni e con particolari grafie, erano in grado anche di scrivere. In pratica noi non siamo in grado di capire esattamente quale fosse il livello di analfabetismo di Carlo Magno e soprattutto perché non abbiamo per lui una diagnosi. Non dimentichiamo che molto banalmente Carlo Magno potrebbe essere stato banalmente dislessico, cioè semplicemente non essere in grado, come capita a tantissime persone anche oggi, di saper riconoscere le parole scritte. Il fatto che non sia mai riuscito per tutta la vita imparare a scrivere potrebbe anche essere banalmente dovuto ad un disturbo dell'apprendimento come la dislessia, che naturalmente all'epoca era sconosciuta e nessuno gliela avrebbe mai diagnosticata. Quindi in sostanza noi non siamo in grado di sapere con certezza il livello di studi che ebbe Carlo Magno da giovane. Pare abbastanza strano comunque che all'interno di una corte franca non gli sia stato dato un minimo di istruzione, perché lui comunque era l'erede al trono e i franchi non erano così, come dire, ignoranti come spesso ce li figuriamo. Forse non erano il popolo barbaro più avanzato, non erano certo a livello dei vandali che avevano conquistato qualche secolo prima l'Africa romana, erano distantissimi dal livello letterario dei goti, però non erano nemmeno così ciucci. Quindi il fatto che proprio Carlo Magno non riuscisse, nemmeno impegnandosi tantissimo, imparare a scrivere neanche in tarda età, potrebbe anche far banalmente sospettare che avesse un qualche piccolo disturbo dell'apprendimento, che tendo a ricordarlo non implica il fatto che uno abbia dei problemi cognitivi. Cioè ci sono tantissime persone che sono intelligentissime, ma che proprio perché disgrafici o dislessici hanno sempre, o discalculici, hanno proprio dei problemi a riconoscere le lettere, se non seguono dei particolari percorsi di apprendimento pensati per loro. Quindi banalmente Carlo Magno potrebbe essere stato anche uno di loro, molto semplicemente, quindi non si tratterebbe neanche di una lacuna nella sua educazione, ma semplicemente di un problema tecnico che poteva avere lui a livello personale. In ogni caso, diciamo così, alla Corte Franca erano presenti poeti, letterati, anche prima ovviamente dell'arrivo al trono di Carlo Magno. Ma Carlo Magno c'è da dire che fu un personaggio particolarmente interessato alla cultura. Tutti quelli che parlano di lui, e per carità certo, sono i suoi biografi, quindi è ovvio che cercano di darcene il ritratto migliore. Lo dicono comunque molto interessato alle questioni culturali, dicono che gli piaceva discutere di filosofia, interessarsi di storia. Da quello che capiamo era una mente molto curiosa e anche abbastanza vivace, quindi anche se non avesse saputo materialmente leggere e scrivere in autonomia, questo peraltro non pregiudica il fatto che potesse essere considerato colto, perché ripeto, al contrario di quanto avviene oggi, noi siamo abituati a identificare la cultura con la capacità di leggere e di studiare molti libri, ma in antico in realtà i libri erano veramente un oggetto molto molto difficile da reperire. La stragrande maggioranza delle informazioni, la gente, anche gli intellettuali, la assorbiva ascoltando le lezioni di altre persone, ascoltando le letture anche di poemi epici o di l'equivalente di quelli che oggi noi chiameremo trattati e saggi storici, quindi in realtà non è detto che una persona che non sapeva leggere e scrivere nel Medioevo fosse per forza un ignorante o un analfabeta nel senso che diamo noi oggi, perché oggi noi per analfabeta intendiamo appunto una persona estremamente ignorante che non ha neanche i rudimenti base. In realtà nel Medioevo potevano esserci persone che non erano in grado di leggere e scrivere e quindi tecnicamente erano analfabeti, ma non per questo erano ignoranti, perché potevano imparare a memoria le cose, anche interi poemi alle volte, non dimentichiamo che molto probabilmente Omero era analfabeta, perché ha composto i poemi in maniera orale e non li ha mai scritti. Quindi voglio dire, il fatto di non saper leggere e scrivere comunque non pregiudicava il fatto che uno potesse essere un uomo colto, che uno potesse in qualche modo interessarsi di cultura ed essere anche un uomo che oggi noi considereremo quasi, per dire, un intellettuale. Fatta questa premessa va anche chiarito la cultura dell'età di Carlo Magno, che è una cosa anche quella molto più complessa di quella che in genere noi immaginiamo. Toglietevi dall'idea, dalla testa, l'idea che i barbarotti franchi fossero appunto ignoranti, grezzi e totalmente ingenui e ignoranti come ce li immaginiamo. In realtà erano un popolo che oramai aveva alle spalle quasi quattro secoli di storia, che la famiglia di Carlo Magno erano stati prima i primi ministri e poi erano diventati i re dei franchi. Quindi erano gente smaliziata anche dal punto di vista politico e diplomatico. E lo stesso Carlo, nonostante abbia quest'aura così bonacciona e un po' guascona, in realtà quando deve prendere le sue decisioni politiche si dimostra un politico incredibilmente scafato. Carlo Magno viene sempre ricordato come un grande guerriero, un grande conquistatore. Paradossalmente quando poi si vanno a controllare le fonti si notano che in realtà le battaglie che ha vinto sono relativamente poche, che non era sicuramente un grande stratega militare, non può essere equiparato ai grandi strateghi come Annibale, Giulio Cesare, Alessandro Magno, lo stesso Napoleone, ma soprattutto era un politico molto sveglio, nel senso che è riuscito a sfruttare al meglio quelle che erano le circostanze che gli si sono parate davanti. Nel Medioevo, peraltro, anche nel Medioevo così antico e così barbarico come siamo abituati a considerarlo noi, l'immagine e la pregnanza del mito di Roma era ancora fortissima, un po' perché era abbastanza vicino il ricordo dell'impero, relativamente vicino, erano passati più di 300 anni, però comunque l'immagine di questo impero romano era ancora presentissima e non dimentichiamoci che Carlo Magno, il grosso del suo impero era appunto nella Gallia e era un popolo germanico, però insomma passava gran parte della sua vita in corti itineranti e gran parte appunto di queste corti si trovavano nel territorio della Gallia, che era stato un territorio fortemente romanizzato, dove peraltro quando i franchi si erano presi la briga di riorganizzare questa regione, va ricordato tra l'altro che non l'hanno conquistata in maniera particolarmente violenta, i franchi sono entrati grazie ad un patto con i romani, il personale di corte che per secoli è rimasto vicino ai re franchi, Merovingi prima e si presume anche Carolingi, era comunque quella aristocrazia gallo-romana che era profondamente imbevuta di cultura latina e che aveva dato anche grandissimi personaggi soprattutto nel periodo tardo antico, quindi Carlo Magno vive in un ambiente che anche se barbarico, oramai, è comunque un ambiente in cui il mito di Roma, la storia di Roma e i simboli di Roma sono ancora presentissimi, quindi non stupisce che quest'uomo abbia potuto immaginare fin da piccolo di potere in qualche modo ricreare qualcosa che fosse molto simile all'antico impero romano. Naturalmente dobbiamo però tenere presente che oramai, dopo più appunto di trecent'anni, quasi quattrocento, non è che le idee su cosa fosse stato l'impero romano fossero chiarissime, era più che altro una leggenda, insomma io credo che i franchi vedessero il passato romano un po' come noi possiamo guardare oppure possiamo leggere l'epopea di Conan il Barbaro, cioè qualcosa di estremamente lontano dalla nostra realtà che è un po' sfumato nel mito. Però alcune idee erano ben chiare anche perché appunto loro vedevano ancora edifici costruiti dalla romanità, avevano la presenza di discendenti per quanto lontanissimi di famiglie che erano state del patriziato romano o comunque della classe dirigente romana, si parlava ancora latino, la chiesa aveva assunto su di sé l'eredità di Roma in qualche modo e quindi tutto questo contribuiva a creare un immaginario per cui Roma restava anche per i franchi barbari un punto di riferimento e quasi un sogno da realizzare. Allora, la idea politica di Carlo quindi è davvero un'idea che unisce assieme il sogno di ricreare l'antico impero romano ma anche quello di riappropriarsi della cultura romana e qui dobbiamo fare un passo indietro perché poi questa cosa diventerà ancora più evidente quando Carlo diventerà re dei Longobardi. Potrà sembrare una cosa abbastanza strana ma gli amici che si occupano di storia Longobarda e che saluto perché per anni ho collaborato anche con loro sanno benissimo che in realtà quelli che noi consideriamo anche lì i barbari Longobardi in realtà in Italia si erano acclimatati così bene da considerare se stessi praticamente gli eredi dei Romani. I re Longobardi a partire da Autari e Teodolinda in poi hanno assunto anche nelle procedure di corte, nelle autorappresentazioni di se stessi e delle loro corti praticamente una modalità romana. Se uno va nel tempio di Cividale del Friuli si rende conto che per lungo tempo si è pensato quasi che non fosse un manufatto Longobardo proprio perché in effetti il linguaggio anche artistico che usano è romano. Se uno va al tempio delle fonti del Clitumno lo stesso per lungo tempo si è pensato che fosse un tempio romano riadattato dai Longobardi. In realtà no, sono due edifici che sono stati costruiti esplicitamente dai Longobardi ma da dei Longobardi che oramai avevano così bene assimilato il linguaggio anche architettonico e quindi anche mentale diciamo così di Roma che riuscivano a fare degli oggetti che potevano passare per manufatti romani. Quando quindi Carlo si dovrà prima scontrare e poi assorbirà perché li vince i Longobardi e in qualche modo nel momento in cui diventa Rex Longobardorum paradossalmente prende su di sé anche l'eredità romana e quindi si romanizza anche attraverso l'assorbimento dei Longobardi. Questa cosa sarà addirittura molto divertente da seguire perché uno dei massimi intellettuali che soggiorneranno a lungo nella corte appunto di Carlo e diventerà il suo maestro personale di greco che Carlo parlava peraltro. Carlo Magno fu uno dei pochi nell'occidente medievale a parlare il greco, non scriverlo, probabilmente non lo parlava benissimo però dicevano che lo comprendeva molto bene. Sarà proprio l'insegnante appunto di Carlo Magno e delle sue figlie, sarà Paolo Diacono che in realtà era un Longobardo che arrivò all'asseguito di Desiderio quando la famiglia reale Longobarda venne imprigionata e stette poi appunto all'interno della corte di Acquisgrana e divenne uno dei fondatori della scuola palatina. Che cos'è la scuola palatina? Beh è quello di cui dovremmo parlare stasera nel senso che fu una sorta di accademia, la chiamavano proprio così, che Carlo fondò insieme con i più importanti intellettuali del suo regno e che aveva una missione duplice. Da un lato era quella di portare ovviamente prestigio alla corte di Carlo facendolo vedere come un re che proteggeva i poeti e gli intellettuali. Dall'altro però aveva una finalizzazione molto pratica, doveva in pratica educare i figli dei nobili destinati a diventare gli alti funzionari poi dell'impero carolingio, proprio perché Carlo era assolutamente convinto che aveva bisogno di funzionari preparati, cioè non si poteva fondare un impero soltanto sulla forza, ma un impero, cosa che anche i romani avrebbero assolutamente approvato, si può fondare solo su una cultura comune. Da chi erano formate queste accademie, questa scuola palatina, questa accademia palatina? Beh, in realtà da una serie di personaggi di cui io vi citerò soltanto i principali, ma il vero nome ispiratore sarà un inglese, alcuno di York. Anche qui l'accademia palatina si connota per essere una cosa incredibilmente intellettuale da un lato, ma anche internazionale, perché vediamo che in questa accademia, in questo circolo intellettuale, vengono assorbiti assorbiti intellettuali che provengono da tante parti dell'impero e forse anche in questo c'è un'intelligenza da parte di Carlo, perché si rese conto che la cultura franca sarebbe stata un po' troppo provinciale per poter da sola diventare la cultura dominante dell'impero unito e quindi lui si prodigò perché appunto venissero portati ad Aquisgrana, invitati ad Aquisgrana e trattati con grandissima deferenza, i più famosi intellettuali dell'impero. Ovviamente erano quasi tutti di formazione ecclesiastica, perché appunto abbiamo visto come all'epoca la stragrande maggioranza di coloro che sapevano leggere e scrivere erano appunto parte del clero, gli altri appunto avevano bisogno di essere istruiti, ma erano veramente provenienti da diverse zone dell'impero, abbiamo Alquino di York che era originario della Nortambria, quindi dall'Inghilterra, poi abbiamo appunto Paolo Diacono che venne appunto cooptato dentro questa cerchia dopo che furono sconfitti i Longobardi in Italia e peraltro il re Desiderio e la regina Anza furono ospitati più che tenuti prigionieri in Gallia, in Francia, perché in realtà pare che siano stati mantenuti abbastanza bene, senza nessuna restrizione particolare e non dimentichiamo che sia Desiderio che Anza erano comunque anche loro due regnanti abbastanza intellettuali, Anza era famosa per i suoi interessi artistici, per aver favorito lo sviluppo dei conventi, il monastero di Brescia, la figlia lo stesso era la duchessa di Benedento, quindi insomma erano una famiglia impegnata anche nel ramo diciamo così della diffusione della cultura, dopodiché troviamo tutta un'altra serie di intellettuali che appunto fanno parte di questa cerchia che provengono appunto da ogni parte dell'impero e abbiamo per esempio persone che vengono davvero dai quattro angoli dell'impero perché appunto al cuino di York tra l'altro si incontra con Carlo Magno non in Inghilterra perché ovviamente Carlo non ci andò mai, ma a Parma dove Carlo si trovava per appunto le sue campagne contro i Longobardi e dopodiché anche qui farà arrivare appunto alla corte di Crisgrana, oltre a Paolo Diacono e a Pietro di Pisa che sarà anche lui insegnante di latino per la corte imperiale, quindi per Carlo Magno e per i suoi figli, poi abbiamo Angilberto che era invece un poeta e un prosatore franco, poi abbiamo Teodulfo di Orléans e al cuino di York appunto che invece erano due membri del clero che tra l'altro fecero un lavoro importantissimo sia al cuino ma soprattutto Teodulfo per una revisione dei testi della Vulgata, cioè della Bibbia tradotta in latino ai tempi di San Gerolamo e da San Gerolamo stesso, che era la base praticamente per le celebrazioni ecclesiastiche. Il lavoro di Teodulfo fu particolarmente interessante dal punto di vista filologico, perché quest'uomo di una pazienza infinita, oltre che di una grandissima cultura, si fece promotore di una revisione del testo, mentre al cuino fece una revisione del testo ma era semplicemente dal punto di vista di grammatica, cioè corresse alcuni errori che erano evidenti e che erano dovuti alla trascrizione dei manoscritti. Teodulfo invece doveva essere un filologo da questo punto di vista molto maggiore, fece una revisione del testo della Vulgata, peraltro facendo una cosa che oggi i filologi chiamerebbero stemma codicum, cioè si fece portare tutti i codici disponibili e rintracciabili in quel periodo per lui, li mise a confronto parola per parola e fece in modo addirittura di vedere quali erano le varianti e gli errori contenuti nei vari testi e insedì addirittura delle note in cui diceva questa variante si trova nel manoscritto che è nella chiesa tal dei tali, quest'altra variante l'ho trovata soltanto in due manoscritti, che è una cosa estremamente moderna, tant'è vero che è alla base delle operazioni che ancora oggi i filologi fanno quando devono fare un'edizione critica. Per dire come questi uomini che vivevano, secondo la nostra visione, nel periodo buio del Medioevo, in realtà erano degli ottimi intellettuali e anche delle persone molto avanti per i loro tempi, che hanno veramente posto le basi per un sapere critico che dopo sarà sviluppato nei secoli successivi. Quindi come vedete la situazione alla Corte Franca era indubbiamente molto più complessa e molto più stratificata di quello che forse fino ad adesso noi avevamo immaginato. Vi giuro che mentre stavo preparando questa diretta io stessa mi sono stupita di alcune cose, perché non sono io un'esperta di Medioevo, non sono a Medievista, io sono come sapete una storica dell'antichità come formazione. Quindi ho sempre dato un po' per scontato che appunto questa epoca fosse molto più, fra virgolette, cialtrona rispetto alle conoscenze sull'antichità. Invece va detto che erano parecchio più approfondite. Carlo peraltro cercò anche di dare attraverso la cultura una vera e propria uniformità al suo impero. La scuola palatina infatti doveva appunto servire per formare i nuovi funzionari che sarebbero stati poi il perno su cui far girare tutto nel suo impero. Quindi i famosi missi dominici che erano questi inviati che avrebbero dovuto controllare in qualche modo l'operato dei feudatari e che quindi avevano bisogno di essere anche ferrati in legislazione perché poi dovevano poter intervenire anche in eventuali processi intentati dai contadini nei confronti delle autorità locali. E poi soprattutto l'idea di Carlo Magno era quello di riuscire ad avere una certa uniformità nel proprio impero. Carlo sfruttò da questo punto di vista le strutture della chiesa e spesso si intervenne quasi a gamba tesa all'interno di concili degli stessi vescovi per portare il suo punto di vista che a quel punto era quello dell'imperatore per cui in qualche modo bisognava starlo a sentire. A fornirli la giustificazione per questi interventi anche piuttosto pesanti perché noi siamo sempre abituati a immaginare che Carlo fosse stato legittimato dal Papa ma la questione non è affatto così. Carlo ha sempre fatto per conto suo e dal Papa si è fatto incoronare e i rapporti con la Santa Sede furono sempre molto più burrascosi di quanto la tradizione poi non abbia cercato di far passare. Diciamo così che Carlo si sentiva autorizzato a intervenire anche all'interno di concili a suggerire quali cose dovessero essere considerate ortodosse e quali eretiche sulla base proprio di dell'appoggio di Alcuino che conosceva benissimo per quanto si poteva conoscere all'epoca la storia ovviamente dell'impero e che continuava a immaginare che Carlo avrebbe dovuto riportare si invita all'impero romano ma prendere come modelli imperiali non tanto Augusto i grandi imperatori pagani ma gli imperatori come Costantino e Teodosio i quali erano stati grandi imperatori del Tardo Antico erano stati entrambi perlomeno Teodosio sicuramente era stato cattolico Costantino vabbè prendiamo buona loro all'epoca ovviamente pensavano che si fosse convertito e battezzato al cristianesimo noi come sappiamo oggi questa cosa non è un dato sicurissimo insomma veniva fuori comunque da una famiglia che poi divenne quasi interamente cristiana anche se non dimentichiamoci che gran parte erano ariani all'interno della sua stessa famiglia imperiale ma ripeto i spunti di riferimento di Carlo Magno devono essere Costantino e Teodosio che il santo cielo erano stati due imperatori sì ma erano stati due imperatori che non è che proprio con i papi avessero quest'aura di grande rispetto perché in sostanza Teodosio aveva un gran rispetto e forse una gran fifa nei confronti di Sant'Ambrosio ma il papa se lo filava pochissimo anzi dava ordine al papa e Costantino proprio al papa lo trattava anche abbastanza pesci in faccia ordinava concili senza neanche intervenire o interferire quindi voglio dire decisamente erano stati due imperatori dal piglio molto decisionista e con dei papi che nei loro confronti erano stati costretti ad essere molto molto remissivi questi erano i modelli di Carlo Magno quindi questa idea di un Carlo Magno asservito al papa e braccio armato della chiesa diciamo così che è un'immagine che è stata propagandata nei secoli successivi dalla chiesa ma che in realtà non era assolutamente così e a fornire questa giustificazione anche politica era proprio la cultura o meglio erano proprio gli intellettuali di corte in particolare appunto il nostro amico alcuno di York che è sempre stato davvero da questo punto di vista era il braccio armato culturale di Carlo Magno scusate bevo un attimo altrimenti non arrivo alla fine della dieta come ho detto Carlo prese tutta una serie di decisioni che invasero fra virgolette anche la sfera religiosa che furono però delle decisioni culturali molto importanti la principale appunto fu quella di decidere che all'interno delle celebrazioni delle messe dovesse essere usato da quel momento in poi il sermo rusticus che abbiamo visto era questo latino molto semplificato che oramai era usato in tutte le parti dell'impero questo perché perché se i preti leggevano la messa e facevano le prediche il latino fra virgolette ciceroniano diciamo così in latino classico non li avrebbe più capiti nessuno perché oggettivamente oramai nelle campagne di tutto l'impero ma anche probabilmente nelle città il latino era una lingua difficile da capire si stava già cambiando anche probabilmente la pronuncia rispetto alla pronuncia classica le parole erano molto semplificate il sistema verbale si era ridotto all'osso si erano persi gli usi di diversi tempi e dei verbi e quindi insomma carlo decise che la religione dell'impero era la religione cattolica ma questa doveva essere compresa non dimentichiamo tra l'altro che alcuno proprio in polemica con l'altro impero che era l'impero bizantino era molto fissato con l'importanza delle scritture perché mentre i bizantini in questo momento stavano dibattendo fortemente sull'uso delle immagini alcuno e teodulfo invece ritenevano che la parola di dio fosse appunto parola e quindi dovesse essere ascoltata e soprattutto compresa dai cattolici quindi questa idea anche di usare il sermo rustico si invece che il latino più ostico e più paludato era in fondo un'anticipazione di quello che farà l'utero nel cinquecento quando dirà che appunto per tutte le sacre scritture dovevano essere tradotti negli idiomi regionali all'epoca di carlo magno gli idiomi regionali erano ancora ad una fase embrionale il latino semplificato invece era ancora capito e quindi carlo impose l'uso del latino semplificato altra importantissima scelta fu quella di trovare una nuova scrittura cioè una nuova grafia per i documenti dell'impero che sarà la minuscola carolina minuscola carolina che era molto più semplice delle scritture in voga fino a quel momento in uso fino a quel momento e soprattutto era una scrittura standard che lui impose in tutti i territori dell'impero anche questo è un grande atto a noi sfugge forse la portata di un atto del genere ma noi viviamo in un mondo in cui esistono i caratteri della stampa e quindi già c'è un'uniformità nei testi perché i testi stampati sono comunque ridotti insomma ci sono certo delle variazioni ci sono vari possibili caratteri ma insomma sono tutti facilmente intellegibili mentre all'epoca di carlo no come ho detto il fatto che lui non riuscisse a imparare a leggere a scrivere era anche dovuto al fatto che appunto c'erano diverse grafie diversi usi scrittori nelle varie regioni e quindi anche imparare a scrivere era veramente un percorso ad ostacoli anche per persone molto motivate la minuscola carolina in questo fu una vera rivoluzione un po come l'adozione non so del time sul new romance come come caratteri di default nel computer nel senso che ovviamente i documenti a questo punto le scuole potevano insegnare in qualsiasi parte dell'impero questa nuova grafia e gli alunni potevano anche spostarsi di regione in regione ed essere presto a poco certi che avrebbero avuto dei testi scritti tutti in maniera uniforme altra grande presa di posizione di carlo fu quella di far adottare in tutti i conventi dell'impero la regola di san benedetto questa è una cosa che molto spesso non è conosciuta o non è conosciuta quanto si dovrebbe perché in realtà quando noi parliamo del grande successo del monachesimo benedettino leghiamo il fatto al successo della regola di san benedetto al personaggio di san benedetto in realtà non è proprio così allora i benedettini dal quinto al nono secolo in pratica erano uno dei tanti ordini monastici presenti in europa ma non erano ancora il più diffuso che cosa succede però che carlo si rende conto che al contrario delle altre regole monastiche che erano incentrate sostanzialmente solo sulla preghiera la regola benedettina invece era fondata sull'ora et labora e all'interno di quella bora non era presente soltanto il fatto che si facessero dei lavori manuali per esempio bonificare le paludi eccetera che comunque erano importantissimi in un'europa che era devastata e abbandonata a se stessa ma soprattutto comprendeva anche la ricopiatura dei manoscritti e la creazione di scuole per ragazzini all'interno dei conventi questo interessava tantissimo a carlo perché lui non aveva il tempo non aveva probabilmente i fondi e neanche la capacità di creare delle scuole una rete di scuole diffuse ma in questa maniera poteva tranquillamente costringere i conventi ad adottare una regola che poi gli spingeva a creare al loro interno scuole e a tenere al loro interno delle fornitissime biblioteche carlo peraltro anche fece una legislazione che prevedeva la creazione di scuole pubbliche in tutti i paesi almeno per diffondere proprio i primi rudimenti e soprattutto ci tenne che queste scuole fossero aperte a tutti anche i poveri quindi la sua idea era proprio che un impero che funzionava bene aveva bisogno di cittadini istruiti c'è da dire che in questo caso è più avanti era più avanti di molti dei governanti attuali che non si rendono assolutamente conto dell'importanza anche economica del volano che la cultura da perché un popolo istruito è un popolo che ha più idee che ha possibilità di svilupparsi di creare delle cose più complesse mentre un popolo di ignoranti onestamente non è che vada tanto avanti peraltro gli intellettuali della scuola paratina furono anche quelli che in qualche modo organizzarono nuovamente i saperi in una maniera che poi travalicherà i secoli e praticamente arriverà quasi fino all'inizio dell'epoca contemporanea organizzeranno le arti del trivio e il quadrivio quindi organizzeranno diciamo così anche il curriculum di studi e soprattutto appunto Carlo cercherà di dare una certa uniformità nella oggi diremo nei programmi scolastici in maniera che appunto da qualsiasi parte del suo impero i nuovi nuovi sudditi arrivassero avessero in qualche modo un terreno comune un'istruzione comune che li facesse sentire comunque tutti parte di una stessa cultura ora tutte queste cose sono veramente delle cose innovative se pensiamo che sono pronta pensate da un uomo che in sostanza era un barbac franco del nono secolo dell'inizio del nono secolo quindi veramente erano dirompenti voleva dire avere anche una idea abbastanza precisa di quali erano stati i meccanismi non soltanto politici ma anche economici e culturali che avevano permesso all'impero romano di durare così tanti secoli e di riuscire a governare un territorio così vasto perché Carlo si rende conto appunto che non basta la conquista e assolutamente non basta la forza bruta per creare un popolo e per creare un impero ma che ci vogliono appunto un insieme di leggi di cultura comune di comune sentire che può essere costruito solo ed esclusivamente attraverso l'istruzione e questa è una cosa molto avanti cioè è lo stesso problema peraltro che si porrà Napoleone quando arriverà al potere e dovrà gestire un impero fatto da diverse parti d'europa perché una delle prime cose che Napoleone fa è proprio la riforma scolastica perché anche lui come Carlo si renderà conto che in un impero che parla più lingue che è diffuso su grandi territori che hanno tradizioni e spesso anche etnie diverse al loro interno l'unica maniera per consentire che questo impero duri un po' al di là del tempo che può garantire la conquista di un uomo è quello di creare appunto una cultura comune e la cultura comune si crea banalmente attraverso scuole che insegnano a tutti le stesse cose creando diplomi come fece Napoleone che aveva un curriculum preciso di studi alle spalle così che se lui cercava un ingegnere in Germania sapeva che era esattamente quello stesso curriculum che se avesse trovato un francese per gli imperatori questo è importante perché gli imperatori in fondo in ciascuna epoca sono comunque stati i primi grandi globalizzatori e la cultura europea davvero nasce a questo punto in epoca carolingia perché si forma e comincia ad avere una serie di linee guida che sono proprio direttamente collegate alle scelte culturali che fece Carlo Magno quindi paradossalmente quest'uomo che noi ricordiamo sempre come un grande guerriero un grande conquistatore ma che spesso come dire facciamo fatica a immaginarlo nei panni dell'intellettuale in realtà lo fu magari non sapeva scrivere magari non leggeva diciamo così ogni sera le grandi opere classiche in originale però effettivamente aveva una visione del mondo molto aperta molto avanti e anche dall'altro punto di vista molto pratica perché tutte queste scelte non furono fatte diciamo così soltanto per una sorta di suo sogno staccato dalla realtà ma perché avevano proprio dei riscontri e delle ricadute pratiche che dovevano consentire nella sua visione finalmente di costruire un qualcosa di comune che sarebbe durato oltre la sua vita e che sarebbe passato indenne ai suoi successori come era durato per un notevole lasso di tempo l'impero romano come sappiamo la cosa non andò così perché poi appunto la famiglia dei carolingi era una delle più eh litigiose della storia in generale le stesse scelte di Carlo Magno che comunque resta molto legato per certi versi al suo background franco gli impedirono peraltro di capire che la legge franca alla morte del del padre prevedeva che comunque i territori andassero divisi tra i vari figli e poi i figli ci si misero ce ne mette misero del loro perché insomma erano anche i discendenti di Carlo Magno litigiosissimi come i loro antenati ehm si può dire che davvero Carlo Magno da quel punto di vista eh fu fregato dalla genetica più che dalla sua eh diciamo così che dalla sua eh capacità visionaria perché aveva sicuramente messo l'impero sulle sui binari giusti per poter durare ma ahimè non riuscì a durare molto più oltre la sua morte perché nel giro di due generazioni era già completamente a catafascio però ecco credo che eh la storia della scuola palatina che spesso viene raccontata appunto in un paragrafetto nei libri di scuola in cui non si capisce assolutamente l'importanza culturale che ebbe di vera e propria rivoluzione culturale che ebbe ehm meritava forse un approfondimento meritava un approfondimento anche perché ripeto i personaggi di cui ne fecero di cui ehm che ne hanno fatto parte scusate mi sono incartata con la grammatica anch'io eh come appunto al cuino di York ma vogliamo parlare di Paolo Diacono non dimentichiamo uno dei principali storici grazie al quale siamo in grado di ricostruire la storia dei Longobardi eh ma anche uno dei migliori scrittori io credo che il latino di Paolo Diacono sia uno dei migliori latini del medioevo ehm ed è stranissimo peraltro o meglio non è strano ma può sembrare strano il fatto che invece sia il latino di un Longobardo ma come ho detto i Longobardi nella loro permanenza in Italia che fu di più di duecento anni perché poi anche qui uno dei problemi dei testi scolastici è che lì si studia sempre molto condensati per cui sembra che eh Longobardi e Franchi eh siano stati quasi due parentesi equivalenti anzi sembra quasi che i Franchi siano durati di più in realtà non è così Longobardi restano in Italia per un lunghissimo periodo e tra l'altro si italianizzano sono per certi versi i primi italiani quindi davvero erano dei personaggi notevolissimi che meritavano forse anche miglior fortuna ma c'è da dire che Paolo Diacono è stato l'ultimo rappresentante di questo popolo ma è stato certamente anche una vera stella di prima grandezza dal punto di vista intellettuale se non l'avete mai letto io vi consiglio di leggerlo perché lo lo amo tantissimo lo trovo veramente uno scrittore ottimo in latino soprattutto perché sembra impossibile che sia un barbaro che scrive latino e quindi come dire cosa possiamo eh tirare le somme di questa lunga carrellata che ogni volta che adesso vedrete o sentirete parlare di Carlo Magno ricordatevi anche di questo cioè sicuramente è un re che c'è rimasto nel nell'immaginario come grande guerriero eccetera ma poi fu soprattutto un geniale politico questo gli va riconosciuto e anche un uomo che se non potrà magari essere annoverato direttamente fra gli intellettuali ebbe una sensibilità intellettuale che c'è da dire pochi regnanti hanno avuto probabilmente nel corso della storia adesso scorro velocemente se ci sono delle domande non mi sembra in forco gli occhiali se non vedo veramente nulla non mi sembra che ce ne siano su youtube ma non vorrei sbagliarmi aspetta che controllo ah sì devo chiudere da qui ovviamente no mi sembra che su youtube non ci siano altre altre domande c'è qualcuno che ha ritirato un messaggio spero che non ci fossero degli insulti allora su instagram non vedo domande particolari ovviamente io ringrazio tutti coloro che si sono collegati mi scuro mentre facevo la diretta non vi saluto anche se vi vedo collegati perché come sapete se no perdo totalmente il filo già e sono abbastanza distratta quando le faccio per cui sarebbe veramente troppo allora vediamo invece su facebook dove siete il mio zoccolo duro di lettori e quindi e quindi vediamo un attimo buonasera intanto a shana che ci segue su youtube eccola lì allora e anche a pa 11 o pa 11 o pa 11 non lo so dunque qui e abbiamo invece su facebook dove c'è appunto il nucleo duro degli ascoltatori di galatea per cui sono più abituati a fare domande allora marco oreste testa questo era il livello della cultura occidentale dell'epoca neanche i più dotti fra voi sapevate leggere e scrivere se gli arabi non avessero introdotto lo zero in europa stavate ancora con il pallattoliere dei bimbi delle elementari poi parlate di scienza greca incredibile marco tesoro mio parliamo di scienza greca perché la scienza greca era quella da cui hanno imparato gli arabi non so inflida ti dice qualcosa anche archimede per cui sì cioè gli arabi hanno introdotto le cifre arabe e in realtà il concetto di zero e i numeri vengono dall'india per essere precisi il concetto di zero non era presente nella matematica greca ma dio mio la matematica e la geometria greca dice direi che se la cavavano benissimo anche senza ecco per cui non ho capito il tuo commento peraltro non neanche capito perché sapevate perché dal nome tu mi sembri abbastanza occidentale quindi non lo so cioè poi non è una gara cioè non è che dobbiamo dimostrare di essere più fighi o meno fighi degli arabi cioè sono due culture e ognuna le sue non non mi sembra che sia il caso di entrare in questo genere di visione come se fosse una specie di campionato a squadre anche perché poi insomma gli ultra di qualsiasi partito o di qualsiasi squadra in realtà non sono neanche il meglio tra i trifosi e spesso dicono degli sfondoni unici per cui insomma vabbè se sei contento così ok non condivido allora dunque luca mazzeo greco maestro non legge tour e sì erano pochi che leggevano il greco in occidente all'epoca però canti anche di molti suoi contemporanei come condottiero verrebbe da dire che il vero talento di carlo magno fosse la logistica il che è molto interessante per una serie di motivi così numerosa che meriterebbe una serata a sé oddio io credo che tutti i grandi condottieri della storia in realtà vi sono un genio per la logistica perché soltanto a portare in giro gli eserciti nell'europa dell'epoca era una cosa che richiedeva un'organizzazione paurosa in ogni caso sì non è che fosse un grandissimo stratega ecco le battaglie franche poi erano delle cose molto più limitate tutte le battaglie medievali rispetto per esempio alle grandi battaglie del mondo antico quindi anche lì la capacità tecnica dei personaggi del mondo antico era più simile a quella di un napoleone buonaparte che non però insomma certo ha vinto molte guerre ecco non ci è mai andato neanche troppo con il sottile perché i sassoni possono testimoniare che non era molto salutare non obbedire a carlo gli ultimi sovrani longobardi liottrando a stolfo e desiderio avrebbero potuto completare la conquista dell'italia unificarla già nel settimo secolo nell'ottavo secolo sì ma la storia non si fa con i se allora fabio luigi cianna mea sì ma la storia non si fa con i se non è andata così poi insomma avrebbero potuto completare sì ma non lo potevano fare perché se non l'avrebbero fatto c'era sempre il problema del papato c'era sempre il problema anche che poi i longobardi detto tra di noi anche loro erano litigiosissime al loro interno avevano spesso degli dei sovrani che non avevano una grandissima forza interna perché proprio erano continuamente in bilico per via di congiure di odi atavici tra famiglie quindi insomma anche lì era una situazione estremamente estremamente complicata emilio e libri scusa galatea mi ricordi cosa sono trivium e quadrivium allora erano praticamente le suddivisioni delle materie nelle scuole medievali quindi il trivium e quadrivium praticamente erano le arti come la letteratura la grammatica la filosofia e dall'altro lato la matematica la geometria eccetera che in pratica costituivano l'organizzazione del sapere medievale molto interessante anna cotta questo chiarimento sulla scuola pealatina grazie gli altri sono complimenti e quindi vi ringrazio tutto per aver partecipato io questa sera sono anche riuscita a chiudere in tempo sono stata più brava del solito vi ricordo quindi che i video resteranno disponibili sia sulla pagina facebook sia sul l'account di youtube sia ovviamente su instagram dove li salvo e quindi se volete diffonderli presso i vostri amici benvenga vi ricordo che a marzo ci sarà una bella sorpresa perché uscirà il mio nuovo libro vi saprò dire più più informazioni man mano che appunto me li danno ma l'ho chiuso in questi giorni ed è anche il motivo per cui tra l'altro oltre ai lavori in casa non ho fatto la ridiretta l'altra settimana perché ho veramente in chiusura di scrittura e quindi di consegna e comunque arriverà e sarà una bomba ovviamente questa volta parleremo di mitologia e e quindi poi vi ricordo appunto che su spotify sarà disponibile il podcast se lo volete sentire voi siate gli apostoli di galatea e taggate o comunque diffondete presso amici e altri appassionati di storia o gruppi di storia le dirette così diventiamo sempre di più vi saluto e vi rimando alla prossima settimana ciao a se volete suggerire ovviamente dei temi da trattare potete usare commenti e commentare suggerirmi dei temi che poi magari con calma metto in scaletta ciao a tutti buona serata e buon riposo buonanotte per quelli che vogliono come me andare a dormire ciao a tutti ora devo capire come si chiudono le varie dirette ok